All'indomani dell'incidente ferroviario avvenuto ieri mattina all'altezza di Palese, dove un treno ha travolto in pieno un bus dell'AMTAB mentre attraversava i binari in fase di chiusura, l'azienda di trasporto pubblico urbano barese ha avviato un'inchiesta interna per accertare cosa è realmente accaduto. A confermarlo il presidente dell'AMTAB di Bari, Tobia Binetti. È già stata avviata, ha dichiarato Binetti, la fase di raccolta dei dati per capire perché l'autista abbia deciso di attraversare il passaggio a livello mentre le sbarre stavano per abbassarsi. Il violento impatto è avvenuto alle 7.31. Il bus della linea 33 è stato travolto da un locomotore di Trenitalia in partenza da Foggia e diretto a Bari. A bordo del mezzo pubblico c'erano due donne, la 34enne Lucia Savino e la 39enne Luciana Di Fonte e uno studente di scuola superiore rimasto illeso. Per entrambe le passeggiere invece i medici hanno diagnosticato il colpo di frusta e l'utilizzo del collare. È ancora sotto shock Giuseppe Bartoli, l'autista del pullman della linea 33. Ieri ha fatto pervenire un certificato medico in azienda, non riesce ancora a parlare e a raccontare quanto accaduto. Feriti anche i due macchinisti, Mattia Bottalico di 33 anni e Vito Antonino, che hanno riportato traumi cranico-facciali. La circolazione ferroviaria è ripresa regolarmente, come è stata anche ripristinata la linea del trasporto pubblico. Certo è un bel danno per l'azienda, ha dichiarato il presidente Tobia, perché si tratta di un mezzo nuovo, anche se è stato già sostituito per evitare disservizi. Infine, ha aggiunto, anche se la dinamica potrebbe apparire evidente, occorre fare tutte le valutazioni del caso. Quando l'autista rientrerà in azienda, come da procedura, sarà ascoltato e successivamente sarà fatta una valutazione dell'episodio. Intanto, su quanto accaduto è stata avviata un'indagine, anche da parte della Polfar.